Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di The Witcher 3 Wild Hunt Siamo alla fine, quindi ci saranno un mierdo di spoiler, ragazzi, eh? Questa è la seconda, credo, puntata finale La Lodge nel caos Filippa Francesca Convolgiamole A bit, but doesn't seem like we have a choice Because we don't I've made an agreement with the Emperor In exchange for its help, the Lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard That will be our bargaining chip Tris, I wish to leave today to find the sorceresses Will you help me? Of course, even got an idea where you could start Dammit! Again you planned without even asking what I think I've had enough of this I won't be taken somewhere like a bundle I will not sit and twiddle my thumbs I am sick of waiting, sick of hiding J'ai un moment de joy You're right Prove today you can take care of yourself Easier to pat someone on the back and hope things will work out than it is to face the truth Jirel possesses a great power she cannot control She is a danger to herself, to others Until she learns to control it, she should remain isolated Engraziati con l'elfo, mo First of all, bollocks If she takes courage, at least address me directly and not through Geralt I'm gone Andiamo insieme, perlomeno No, no, vado con lei, vado con lei Fatti, fatti due, elfo Eh, yeah, yeah, yeah Abbiamo sbagliato, Geralt, bisogna andare a parlare Come on, Yen The sooner we leave, the better See ya Però forse non bisognava chiedere l'aiuto della loggia Il problema è che dopo il re diventa troppo forte Se tutti quelli della loggia lo aiutano Che mi sa pure un po' cantipatico tra le altre cose il re Alcuni giorni dopo Ma adesso ci riporta Ci fa uscire dal finale Forse Berend, perché non metti a mollare la spada al sole? E sulle montagne fa freddo Non funziona, non lo vedo? Discorrata dopo un po' di 8 attenti? Sì, l'ora Quante volte devo provare? As many as it takes Ci vediamo noi Che è meglio sicuramente Grazie per la prima volta che ci riporta al giardino Geralt, per favore, non ora Con comparazione, il giardino era una walk in the park Ma non è il punto Cosa è? Avelarca dice che non ci arriverà da questo Ancora di pensare a la battaglia Ma al momento Non è impossibile Ficurare la mia head Con Kitten E Vanilla Pudding Ficurami Come Ficurare? Che? Non devi essere bravo in tutto Basta fare sempre del suo meglio Poi Se lo sai che hai fatto del tuo meglio Che puoi fare di più? Spero che non mi può uccidermi? Potrebbe poter provare Problema è capire che ti stai impegnando per fare del tuo meglio Come il gatto? Ha preso un piccione Comunque questi quando bevevano la birra Cioè Vada dentro ci sono Due litri di birra Secondo me Sento a quel boccale Non mi lascia preoccuparti Non è come se hai bisogno di eccellerci In tutto Sei bravo con una sword E un eccellente archer Lascia la magia ai magi Sì Prendi un altro Gatto ok Vuoi diventare manco pure tu I piccioni più velocemente Al volo Gerold 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 Mi capo Qua? Qua? Cosa sta succedendo? Sì Sì Devi andare Ho sbagliato i bambini Siri È il cappello di dawn Onde vuoi andare? Sul monte Brullo ragazzi Dove siamo andati noi? Che non abbiamo trovato niente Illuminami Questa mi sembra un'ottima idea Come si è avuto il sabato? Il collo è un poco strano D'elfo D'accordo D'accordo Ci andiamo all'imperatore Oppure perché All'imperatore ci dovevamo riportare Siri Che non penso che non era il caso Di metterla Di ingannarla Cioè abbiamo pure il teletrasporto al monte Che però non abbiamo esplorato tutto quanto Perché ci stavano dei mostri troppo grandi Di livello troppo alto E quindi abbiamo detto Qua sicuramente C'è una quest C'è una caccia Una cosa del genere Invece c'è forse Proprio la quest principale E poi c'è un ladro Che non Non sono riuscito a salire sull'albero In nessun modo Qua però non c'è l'albero Poi c'è sempre Ciao Francesco Buon pomeriggio Buona domenica E poi c'è sempre Quel posto Dove sta la torre di Roccatela Come si chiama lei The men at Crows perch They spoke of this place Ard Serbin Home of the ladies of the wood The peasants feared coming here And the baron thought The ladies of the wood A terrifying tale for naughty children Incidentally I wonder how the baron is He found his wife Took her away Somewhere far Anna She was unwell questo lo sa glielo ha detto però conosci questo po chiediamo un po di informazioni di background che non fanno mai male quindi qua troviamo le tre maggele come sai che Imerlid ci sarà o facciamo pure una cosa importante per il bene dell'umanità ok andiamo però fammi vedere un secondo vedete che qua so che dice la festa dei doni dobbiamo fare così ragazzi un secondo perché no qua dopo andiamo pure là nel bestiario ci sono anche no eccoli qua le meggene sono il muro a queen un guento anti ancestrale sono proprio brutte queste cose ok e qualche cosa dovevamo vedere più anche la mappa del mondo qui stiamo esattamente al monte brullo qua ci sta l'albero e io volevo andare a prendere questo punto interrogativo però non ci sono riuscito e qua ci sta il bastione di distrutto che abbiamo preso questo pezzo qua però non abbiamo capito le tre leve a che che significano andiamo non ci fa correre forse Siri ci deve raccontare una storia quello pragmatico forse quello col bastone con una mazza grossa oh vede qui non c'era nessuno prima c'erano i foglet mi sembra non c'erano i fogletti 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 non ti passi ma ci fai ci fai con la fuga e la fuga con la fuga e la fuga sottolineate sottolineate e magari questo anno le madri sottolineano e ci daremo il privilegio di vedere loro vedremo intorno a un fuoco ma non ce lo direi in faccia Siri sediamoci poi ci alziamo e saliamo sopra questo già si vede che non si fa i fatti suoi prendiamo qualche informazione ok le signore che dice questo qua sono un emegene quindi tammocchi tutto bello non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano perché non possiamo intruversare la porta ma è più di tre non c'erano 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 felici e radeganti ma rara è il non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano Per l'angelo, i bambini servono le ragazze, come noi facciamo ora. Vi mandiamo gli gifti, tutto l'anno scorso. E questa notte, li ripagano con la loro benedizione. Ho conosciuto uno dei vostri gifti per i croni. Snivellando. Scaredo a morte, e circa 8 anni. Restate calmo. Ok, perché le signori vogliono i vostri figli? Perché le signori vogliono i vostri? Ma noi ci siamo caduti. Non lo so. Non lo so. Allora, mi lascia direi. Diciamo invece che un pezzato, il suo stesso genio e starveno, deve fare con un orfan di guerra. Non sei da qui. Non ci giudiamo per le leggi di altri. Diciamo che le signori vogliono i vostri. Sì, per le nostre vidi ci sono diventati. Prima un'anno scorso di lavoro, nemmeno il sole. Poi l'anno scorso. Poi un'anno scorso di morte. Poi, ci troviamo l'anno scorso. Questo è il risultato. Poi, ci troviamo. Poi, ci troviamo l'anno scorso. Poi, ci troviamo l'anno scorso. Un'anno scorso di acorni ad encarni è sufficiente per tutti i Velen. Non è cazzo. Cambiamo un argomento. Andiamoci, andiamoci. Dobbiamo andare. quando c'è ci abbiamo fatto le domande non dovrebbero dovuto cambiare il testo aspettate un secondo questi potrebbero avere assolutamente questa è una errante però Fabio da quell'altra parte non ci stava e ripariamo tutto credo che l'hanno messo anzi lo controlliamo pure scusa il registro missioni le mettiamo queste che succede? ce la cambia? ce la cambia quindi adesso teoricamente possiamo ritornare nel gioco principale ok parliamo col Fabio questa non c'è niente di buono prendiamo tutto questa 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 roba che già dovevano mettere una cosa avviene di tutte le schifezze non ci sta ripariamo ripariamo e vendiamo semplicemente per una questione di peso vediamo se Rutile tiene qualche cosa facciamo questa sella ok stiamo brutti e sei di dove? che fine ho fatto? non è un bambino quello che non è un bambino non è un bambino no non è un bambino che vuoi Sì, vedi a te riuscire, sei da me tornando, come ho... ho avuto il piacere di... Oh, è una storia lunga. Mi chiamano Siri, bello che ti metti. Come ci sono, Johnny? Bene, bene, quindi non c'è complesso. Cosa ti porti? Cosa ti faccio qui? Cosa ti faccio qui? L'ultimo che ci incontriamo e i croni erano proprio amici. Ho avuto un'invitazione che non mi dimentico. Forse ti vogliono sacrificare, Johnny. È possibile che questo muore. Cosa ti? Dobbiamo ascoltare le montagne, puoi aiutarti? Io vorrei provare a provare a ti, ma sicuramente questo sarebbe in vain. L'ultima, lei è più forte come te. Ancora più. Ancora più. Ho pensato tanto. Oh... Il passato al pico comincia là. Passa la porta. Ma solo l'ultima Thekla ha la chiamata. Sì. Allora, se non ti non puoi mai capire, potresti tornare ora. Ok. Siamo qui per trovare un'elfe chiamato Imlarith. Ciri pensa che sia un guest dei croni. Big bloc, in full plate? Per andare da dire? L'ultima della montagna, ok? Se lo prendiamo da dietro, lo spezziamo. Perché non potremmo procurarci la chiave? Come devo rimettere Johnny? Ok, dovremmo tentare. Ok, dovremmo tentare. No, però è stata una cosa bella che abbiamo... L'ha incontrato Johnny, salviamo. Da qua, ok. Perché... Andiamo a vedere un attimo qua sopra chi ci sta. Quella è la porta da dove dobbiamo entrare, forse. Poi che sai che c'è? Oh, c'è un po'... Ah, possiamo andare anche per di qua. Non so perché quello ci vuole da far fare del giro. Parliamo con quest'altro mercante. No, questo non l'abbiamo mai incontrato. Maggiore. No, queste cose non sono troppo. Abbiamo sbagliato. Non ne dovevamo fare. Tecla. No, abbiamo... Tecla. Simone. Come si. Voi, vieni, chè. Sì. Come si. Come perciano, chè. Vieni. Non ne ho avuto un uomo. Vieni. Non so. Vieni la risposta. andiamo andando con lei I reject ye, freak the girl will ascend alone what's this about? what have you chosen her for? tell him each year three chosen have the honor to meet the ladies what happens after they've had this honor? when they return they speak of the past no more joy rules them and they start life anew the lats were not the first to be chosen this day but the moon angzai so she's like to be the last e chi altro sarà? la prensa ingannano? io sono digno girl he's spryer than any youth only smells like corpses because he kills monsters and he'll kill any who stand in his way perhaps I was mistaken perhaps there's life in him yeah by ancient right you may appeal my choice but to do so you must best the challenge quale sfida? ma buona una sfida che vuo che sia you must descend into the cave and bathe in the waters below the earth what's the catch? the water is deep the water is murky I accept the challenge magari ci troviamo pure un tesoro come come dobbiamo prendere la moneta noi ci dobbiamo buttare dobbiamo prendere la moneta ragazzi uro c'è nel libro ma come facciamo a ritornare sopra? aspettate un secondo ah boi ah non fa niente questi sono andati per il mare ma dove è andata a finire la moneta? ma come si fa? siamo morti ragazzi perché qua non ci possiamo non possiamo uscire non siamo morti un secondo perché tipicamente dentro a questi posti ci sono sempre dei super tesori non è possibile che non c'è nessun tesoro qua aspetta forse si riesce a salire qua sopra questo qua è il passaggio dentro la caverna sicuramente però sono ragionevolmente certo che ci sono ci vuole il gatto ragazzi facciamo pure una rondine non cadiamo giù è andato è andato no ok manneggio la miseria proviamo il gatto migliorato secondo me il fatto della moneta era semplicemente un modo per mandarci a combattere quel demonio andiamo a vedere il fatto del libro vediamo se mi sono sbagliato la proporzia di Tlin questo secondo me è pure importante pulite il tempo della spalla e l'ascia si appropriqua il tempo dell'ultima battaglia il tempo del bianco giro e della bianca luce vicino il tempo della follia ok il mondo perdirà nel ghiaccio e risorgerà con un nuovo sole vabbè cercare dei segni io posso dirvi quando la terra rinascerà dal sangue degli Aenzeide il sangue degli elfi ok vediamo nella vecchia ciao Siri ma come sanno degli altri libri o lei che sanno ma questo mi sa che già l'avevamo letto però certo che la tua assistente è proprio simpatica chi sa chi è il terzo sto pensando se salvare o no salviamo questo qua ora che arriviamo dentro il gioco ci chiederà dirà no non puoi tornare indietro vuoi salvare adesso? chissà che succede? questo c'è questo c'è questo andiamo avanti 8 il passerotto 9 il bove 10 ciliegi questo è il tizio a cui dobbiamo dare la moneta credo ho passato la prova come è una condanna a morte azione Poverino Secondo me perdiamo Abbiamo vinto La bella, la bella Che ho vinto Il destino ha deciso Infatti non so chi è il più semplice Nell'emergere o il tizio là Secondo me andiamo a picchiare il tizio Poi dopo Ah Facciamo tutto noi Perché adesso guidiamo Siri Mi sembra giusto Siamo Il problema di Siri Esamina Anche Siri si può immergere Però Siri non c'è l'inventario Quindi è inutile andare giù Per vedere se c'è qualcosa Oh Queste sono le magerie Come si è inutile Che vivi una vita di amore E non c'è nulla Mamma mia. Come si trasformano, penso. Welcome, child of the Elderblood. We knew you would return. Your taste lingers on our tones. You've talked enough. Your blood, your water, so sweet. You die tonight. Ah, ma non puoi farlo qui, ok? Ma mica si curano queste? Ci sono quelli lì ai lati che ci lanciano gli incantesimi. Non ci dobbiamo far colpire. Una è andata. Quella alla destra. Questa è quella qua. Questo è quello che ci ha tolto tutta la vita, ragazzi. E la vita non torna. Stai tornando, stai tornando. Siamo morti. Teletrasporto per portarsi ad espari degli avversari. Stai tornando. 1, 2 cosa proprio perfetta ragazzi perché facciamo tutte e 3 non c'è qualcosa di nada quell'altra è quasi morta naughty naughty girl he died tonight look up vai manca è morta quell'altra questo qua c'è uno di vita ok ecco 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 vieni qua mamma mia è stata tosta ragazzi faccio il colpo di grazia Siri non l'avevo detto sacchete grazie Max Mine ciao Emiliano rieccoci rieccoci erano tosti le Megere più che altro però non erano tanto tosti il problema è più che era mirare che era difficile perché quelli si si teletrasportavano ok dopo ci torniamo sul Monte Brullo ascolto a farse dobbiamo andare sopra controlliamo no secondo me dobbiamo andare per la caverna anzi facciamo una cosa salviamo è strano perché qua non ci sta niente e questa sembra una specie di arena qua non è la parte dove abbiamo affrontato il tizio sicuramente andiamo per di qua da qua non ci sa ma scusate non lo fa posso il gioco allora qua c'è sopra una bottiglia di vino c'è una stella cadente e poi qui a destra ho sentito un rumore andiamo a controllare un rumore vada questo è un luogo di potere poi ci mettiamo pure il livello ok ah questo è buono cioè abbiamo tutte quante potenziate al massimo le cose ah boh ah quello là invece che intensità queen fondi corazze questo è ingni e questo è persuasione persuasione non dovrebbe servire però ah ci vogliono tre punte aggiunti per sbloccare questo e mettiamolo mettiamo ardo e è quello là che pure l'abbiamo usato un sacco di volte perfetto e riserviamo e c'è venuta queste sono tutte succubi ma mica è quello è il capitano e questo è il capitano sono venuto da su venuto da su venuto da su una lie che non cambierà nulla prima tu poi lei bene comunque questo qua non è quello il boss finale questo è quello là con la mazza ma scusami ma scusami ma facciamo queen ok speriamo con axi non ci facciamo niente con axi speriamo con ardo può darsi che lo scheramentiamo da quell'altra parte però forse ma non è che quello non sapevamo dove sta ripetiamo con axi ripetiamo 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 con axi l'ambo è qua bello vai no 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 non funziona non insegna andiamo solamente con lo scudo andiamo dietro bello axi girato quindi due colpi dobbiamo andare dai perché quello poi si gira e dà il colpo axi si trasporta pure fase due fase due scondine no no ragazzi non è stata colpa mia mi hanno distratto ma non è il gioco prundine concentrazione ok adesso sono nel pino nel pino quasi perché non riusciamo a fare ah no no ce la facciamo la vita però ce la facciamo molto lentamente fase tre e non viene più la matta è bello non c'è andato per il mare c'è tutta la spada forse dovevamo usare Igni pure noi mamma mia così ti impari così ti impari mazzo eh però ci sta il generalissimo capo dei tizi della caccia selvaggia che ancora non abbiamo ucciso questo era il luogotenente il braccio destro Siri sei contenta? abbiamo fatto come due come due? hai fuggito la terza venire qui diciamo che hai vendicato Vesemir Avalar Claims Vengeance is only ever satisfying when served cold he's wrong now to find Eridin and kill him and oran for your thoughts wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad tell her the truth always tanto si ingazzano lo stesso Gerard che fai fai si ingazzano lo stesso quindi voglio dire essere onesti eh no andiamo andiamo vediamo niente più da fare qua grazie per venire con me venite qui va bene qualcuno che ci viene a fare il cazzadrone ah no ci sono questi due uccidiamolo a questo non lo so e non mi interessa non l'idea il passaggio è chiaro puoi sempre andare a guardarli o solo andare a casa questo non è più no man's land non è più la lady è è tutto lo stesso ma cosa facciamo fare venga Gerald è il tempo manage su proprio Ma ora c'è dei trasporti direttamente a Novi Grad A Novi Grad ci sta quello che dobbiamo Dobbiamo finire una quest No non è Triss E se la soppresa con gli Elfi Vuol dire che se la prendono pure con i Witcher Ma no, non penso Teniamo quattro lascia passare E meno male che era la città libera di Novi Grad Dandilion Dandilion Ready some tankers With guests Geralt Siri Mi? Quando ho insegnato che Geralt hai trovato Dandilion 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 Comunque ragazzi Io penso che è arrivato il momento Se il gioco Ci da un attimo di libertà Non ci da un attimo Di libertà Qua succede qualcosa a Siri Dove sono le maghe? Dove sono le maghe? Dove è venuta un'esercizio Lodio di sorceressi Triss e Yen Deve eravano sfruttare i remanenti I stanno lavorando Triss sta all'interno Si sta all'interno C'è per te Yennefer è andato a Kates Yen? A quella porti di dive? Perché? Non mi ha informato Immagina quello Ah E quello del loro elfo Si è in casa Dandilion 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 Mi ha dato una senza mignone Ok Aiuto Ma veramente bisogna fare tutta sta roba Allora ma facciamo una cosa Innanzitutto mettiamo la roba Bardo spostati Mettiamo si due pezzi Dentro uno E due Ma si trofei secondo me li possiamo buttare Impossibile De trasferire Forse perché questo qua Non ne abbiamo più Aspetta controlliamo Allora inventario Vediamo un attimo l'utilia Ok Ci troviamo Non facciamo niente di tutto questo Adesso facciamo due cose Facciamo innanzitutto Abbiamo una missione Che non è questa Possibile che l'abbiamo finita E l'abbiamo finita L'abbiamo già fatta allora E poi Dobbiamo andare un attimo dal barbiere Togliamoci Tanto sta qua vicino C'è un barbiere qua vicino Ehm Qua che ci sta La vediamo triste a liberare Filippa Appena troviamo un barbiere Ci buttiamo dentro però Allora Vediamo Sano tutte e due sopra L'unica cosa Avalancio No Dove andare ancora più sopra Questo è il mago No è Triss dove sta Scusami Sta un piano più giù Dobbiamo fare così Aiuta Triss a liberare Filippa Adesso dice che Triss sta su Forse sta in una di queste stanze Sta qua A sinistra Così grazie Questo è solo uno dei motivi Per cui si Si poteva incazzare Ehm Calma Ti è andato tutto bene Ehm Calma Ti è andato tutto bene Non posso dire lo stesso per Inlerith E' la sole comfort Che ho trovato in questo Ma non c'è una giustificazione Tu sai cosa potrebbe essere Sì Ma non ho mai letto Siri venire a nulla Tu sai Ti è andato tutto bene Ti è andato solamente Dalle meggere Lui è morto tre volte Così ingazza ancora di più Filippa la dobbiamo andare sicuramente a salvare Perché è dall'inizio del gioco Che stanno parlando di questa Filippa Che stanno parlando di questa Filippa Mentre she least expected to Years later Known for discovering The cure for the Catriona plague She was thankful None remembered her time And hiding as a village witch Hazz Ma questo qui è dovuto a una scelta che abbiamo fatto Andiamo a trovare Filippa Questo potrebbe essere interessante, preferisci la versione lunga o la corta? Non sopra i dettagli Dopo evitare a Loc Muin, Filippa è finita qui, a Novograd Sì, ha cercato aiutare il suo precedente amore, il Sorcero Arthur Devleister Devleister ringe una bellissima Filippa ha fatto una scuola di lui una volta, Arthur fuori per la scuola Convincere la scuola che sarebbe la sicurezza di un'owl La trasforma, e ha posato una band di dimilidio sulla sua legge Il mage hunt è iniziato a breve dopo Sì, Arthur fuori a la scuola L'argomento è stata accionata da sua estate C'è una cosa che c'è una città di un'acquaintante Abbiamo accionato alla scuola Zoltan So Filippa Was here under our noses the whole time Was, precisely Zoltan lost her in a card game A few days ago Non ce credo Kidding, right? Sadly no A man showed up here Fleeced Zoltan bear then proposed They play for the owl Naturally he won Then politely thanked Zoltan for the game And left Chissà vuole Priscilla che fine ha fatto Aha Andiamo subito Vede quando ci teletrasportano Ce lo chiedono prima Vamos a ver a me dentro Come era il passato e il futuro Questo ci fa andare a piedi perché per arrivare ai bagni pubblici è una cosa difficilissima in questo gioco È una delle cose più difficili da fare nel gioco A meno che Palesemente è ovvio A meno che non dobbiamo semplicemente seguire Triss Che sicuramente sarà strana Tra la mano l'abbiamo imparata anche noi, vero Triss? Sì, andiamo a sinistra Si scende qua sotto Pasi già destra in versione 1 Che cosa succedono? Che ci sono? Represa la magia forte, non è vero. Surrender! Questo posto è un'amplice, witch! Non ti farai mai fuori! Goddamn fools! After her! Siamo avanti questo. Oh no, no, no! La sorceressa resta qui! Chris viene con me ma questo dobbiamo cominciare ad aiutarla, non la dobbiamo uccidere ci manda aspetta, diciamo che se ne vediamo Chris ok speriamoci a mettere Axie, forse ci togliamo lo spele senza uccidere, speriamo che si ricarica vai no eh oh no ma che è andata giù, ma dai forse adesso giù trova viene fermata da Bart eh, solo che non mi riguardo la strada ancora ma che dobbiamo uccidere Bart Bart ma non lo uccidiamo a Bart voglio aiutarla no no let past ma dai ragazzi ma no ma non lo dobbiamo uccidere lui veramente ci deve aiutare bollocks tu non mi prenderai io voglio aiutarti scusami ma non ti credo perché è sto coso elementare del fuoco aspetta stai vicino e riflettivamente a Filippa aspetta è vero è vero ora parte ma ma stop squirmi se volevo uccidere tu sarai lungo per ora che vuoi mi tormentare guardare guardare altri facendo la ho 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 bisogno di tua scuola! Si fa capace, si fa capace! Perfetti mi, e io... Rilassati, non ho pensato. Triss è fuori, va a spiegare tutto. Ma che ci dice? Distra... Distra... ...dipissi, ma la signora viene con me. D'Extra, non ho tempo per questo, venne fuori di me. D'Extra, non ho tempo per questo, salto di me. Non ho parla con te, Geralt, ma io e io ho molto a parlare. Ricordi i assassini che ti senti dopo, figli. Un'era grave, un'era. Ma cosa dovrebbe essere sottotitoli personalmente, come ora vi farò. diciamo lei mi serve lasciaci andare dirò la storia la storia la storia questo mi sto proprio simpatico questa cosa qua non è vera secondo me però ci dovevamo passare forse dall'imperatore diciamo non si è potuta venire in nessuno così ci crede veramente potrebbe essere che mente non è vero lascia parlare non è vero ma le missioni queste qua sono missioni lunghe te grazie soldatino ma scusa ma il tizio ci dovrebbe essere anche un'altra quest no perché il tizio ha detto venimi a parlare andiamoci a parlare però non sta qua ragion di stato aspettate ragazzi vediamo un secondo come siamo messi qua ragion di stato è di livello 30 gli ultimi preparati gli ultimi preparativi è questa qua e poi il soldatino è possibile che questa è quella statuetta che abbiamo incontrato che abbiamo trovato per la strada è possibile che Triss sia andato a casa di Triss ma ragazzi ma ragazzi qua ci dobbiamo ricordare le cose di tanto tempo fa è un poco difficile perché a un certo punto perché a un certo punto abbiamo aprito questa statuetta beh vediamo che succede ah no Triss è tornata qua ok sempre nella stanza di Triss che sta qua ah 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 a ah ah Tu eri in Putrid Grove, e fuori di niente mi sono arrivato, cosa pensi? Scusate? Oh no, non lui ancora. Ho pensato così tanto, tu non sei facile da trovare, sai? Hai recuperato la tua memoria, hai trovato Yennefer, quindi, naturalmente, pensavo che i due di voi... Ma è vero che la mia amnesia cambiò niente, volevo stare con te, prima, durante, e dopo, sempre. Gerald, ora stiamo sbagliando pesantemente, però, purtroppo, questi dialoghi non ci azzeccano tanto bene. Guarda cosa ho fatto... Come va, dobbiamo decomprirlo. Credo che sia un soldato. Ci vedremo troppo, vieni con me, ho un posto dove le potele non hanno orecchie. Chissà come mai, però, non ce l'ho fatta fare prima. Forse ladriamo nella quest log e triste poi dopo se n'è andata. E comprimiamo il soldato. E comprimo questo, qualcosa che posso fare per aiutare? Sì, fai quieto e provi non mi disturbi. Mità ci sono che, non mi confia. Non mi confia. Ma sono parte. Ci sono stati costruzione. Se mi confia. Non mi confia. Se stanno costruendo il soldato. Qua è l'ultimo caso che ricordi? Qua è l'ultimo caso che ricordi? Buona fortuna Questa è una missione che non avevamo finito ragazzi Il problema è che qua sono un miliardo di missioni Allora Facciamo una raggiungi stato Però salviamo prima perché questo qua È un brutto presentimento Nel senso che se facciamo raggiungi stato ci potrebbe far fallire qualche altro quest Dove dobbiamo andare? Da quell'altra parte Raggiungiamo questo e ce ne le trasportiamo Qua c'erano i tre Vediamo se hanno fatto il respawn Non hanno fatto il respawn Quindi conviene uccidere le guardie No le guardie Quelli lì che ci fanno gli agguati Così quando uno ci passa un altro Che sta facendo questo? Non avevo mai visto quest'opera d'arte Non ci avevo mai fatto caso Qua c'era il barbiere Aspetta un secondo Questo è il barbiere Il pergamene Andiamo un attimo con questo Sanno diversi libri che non abbiamo mai Il golem Forse perché costavano un sacco di soldi Ok 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 Praticamente li dovremmo pure leggere Dopo li leggiamo Però qua ci sta il fabbro Ok Andiamo avanti Però ci sta pure il barbiere Da qualche parte Ma non mi ricordo dove sta Ma non mi ricordo No ma non mi ricordo Ce n'era uno proprio all'inizio della città Se non mi sbaglio Forse conveniva a prendere il teletrasporto E ci fermava esattamente Faccio un secondo Faccio un secondo Io ho Questa è una casa delle guardie La casa delle guardie Dobbiamo essere un poco più attenti Salviamo Adesso siamo per fare una cosa brutta Che probabilmente potrebbe incidere sulla nostra reputazione Libriamo un'ottima questione Questa è un'ottima F***, un altro non-humano. Tu sei tutto. SILENCE! Ora, faccio questo, veloci. Ho un'unico choro, ti sono capito? Un'unico choro che non non costa l'argo. Questo non è vero, non? Ora, veloci. Ho vosto abbastanza tempo su questi due pricks. C'è un'esercizio, 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 un'esercizio. C'è un'esercizio? On'è un'esercizio? Tu metti l'esercizio. Ok, ci penso io. secondo me dobbiamo cambiare il gioco un magazzino conteso ucciso il mostro nel senso che probabilmente questa è una missione di livello zero no? Strangelo Neckers rarely venture anywhere alone why deep print a dwarf someone kept it in a cage bars were sawed through that's why it escaped ci dovrebbe essere un'opzione che secondo me rende il gioco un poco più divertente perché adesso siamo di livello un poco troppo alto mo la proviamo a mettere dove sta? praticamente fa aumentare i nemici più deboli al nostro livello ho trovato una gabbia ho trovato una gabbia qualcuno ha kept the necker in it bars have been sawed through though so someone wanted it to escape l'umano 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 pric finally got his comeuppance i'll buy his stock for copper and the crown why'd he even do business with you if he hates dwarves so much ah the only dog's tough wasn't he at all prejudiced against dwarven coin so why'd he try to kill you è stato lui un magazzino contesto chissà se è finita vabbè no allora vediamo un secondo se è quella non sono sicuro se è quella comunque a un certo punto potenziamento penso che sia questo qua così i nemici normali non dovrebbe potenziarli quelli là che sono troppo basso di livello li dovrebbe far diventare credo lo stesso livello nostro dobbiamo girare da dietro perché sennò pure dopo quando andiamo a fare le cacce è troppo semplice bussa secondo me non è così ragazzi rivediamo potenziamento nemici questo qua perché da quando l'abbiamo messa ci sono adesso dice anche il nome prima ha detto una scienza questa è una carta di di Gwent è buonissima che Sì, l'unica cosa che ho trovato è la sua scuola, qual'è il tuo punto? Possiamo usare Filippa senza l'involuzione, se ti aiuterà. Radovid ha chiesto che ti riporti, porti lui informazioni sulle. All'altro che hai bisogno di fare è parlare la sua nome, informare che hai una legge, sei sull'escrizione. All'altro che ti riporti, l'acqua, l'acqua, l'acqua e una buona parte della roda, anche se ti riporti. Ok, diciamo che la bocca. Diciamo che Radovid ha chiesto, mi crede, e nessuno di questo è un dato. Che poi? Tu dirai lui che hai trovato Filippa's scuola, un'unico dove possiamo facilmente cercare una scuola, una scuola. Suggestioni? Ciccicic", Cicciccacci perché erano da un paio. Tu ovviamente ci ci puono un morde. Il resto che ci chiamo è che ti inviti a Radovid per una struzione, porti a lui per la città, e prenderemo il resto. Quindi cosa sarà? Ok. Sto in, ma quando si è finita, cosa poi? Ci sarà un ruolo in la città, una panica, magari. Nei un posto dove possiamo aspettare. Chi ha pensato già? Ricordi Madame Arena's teatro? Abandonata ora, nessun soul si vede là. D'arrivo e io ci 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 troviamo. Ci ci troviamo? Non riesci a rischiare le nostre? Non è il punto. D'arrivo e io ci ci troviamo molti virtù di freddo, ma la combattazione non è una delle loro. Non ci si tratta per questo come ci troviamo per una pagine di bellezza. Non te preoccupi, Gert. La mia gente sono difficile, ci si riconosciano. Ci si tratta. Tu ti riconosciano, il loro è il king. Fa lo che posso. Oltre è il loro è morto in questi giorni? No, Filippa Adesso ci ferma Filippa, forse Ci dice che ci vuole dare una mano Um Diciamo che non sarà facile, ma credo che ci riuscirà Oh, è questo che ci ha aiutato Non c'è la fregatura, credo Perché ora ci dice che anche lei lo vuole uccidere No, non c'è la fregatura Filippa, conosci i tui davvero bene Sempre ha un plan, sempre ha almeno due ironi nel foglio No, non c'è la fregatura No, non c'è la fregatura Ok Assolutamente Da qua accorciamo Prima che arriviamo No, 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 accorciamo, accorciamo Il GPS di questo gioco non è tanto buono Da qua accorciamo sempre Qua dobbiamo salvare invece C'è la fregatura C'è la fregatura Può dire che vuole un anello È una trappola, l'anello Quali altri? L'anello Oh Il secondo era il postmaster da Oxenfurt Claimed che aveva una lettera che aveva penato Era forzato, ovviamente Ho i suoi dimenticato Non lo scrive mai Oh, e ho preso la tua lingua La lieata sposa è proprio come rappresentante Non è necessario, il resto della città è disperato rapidamente Sono un professionista, ho un reputazione a prendere Be stupid of me to come to you empty-handed My father's ring Philippa usò per stampare le decrees Then distribuiti them come the word of the king Where is she? Under your nose, sire In Novograd In a house on the bridge leading to Temple Isle Why haven't you brought her to me? Got to capture someone to take them anywhere All I did was track her down Then stole this ring as proof that I had Do you fear her? No, you want to kill her yourself With your own hands No, forse mi sembra una cosa buona Allora, in realtà Ha studiato Tutti? Che domanda stupida Allora, noi siamo sempre disarmati Secondo me esce Philippa Che prova a ucciderlo direttamente lei Damian, Duke, Egbert, Freak, Caspar You shall stay here Secure the rear And kill the witcher Oh, come si permette? Ah, diciamo così, è ringraziata che vi serve? It is how I punish those who irritate me You know too much You imped me too often And I find your arrogance and annoyance Bene Pure noi Sti 5 li facciamo fuori Velocemente Ma questa qua non è la nostra Oh, aspettate un secondo Fermi, fermi Fatemi organizzare Ok Ok Tu Ok Ok Abbiamo ripreso anche le nostre spade No, non c'è alcun problema Aspetta un secondo Usiamo Wigney Non morire, non morire Perché questo non è morto? Seguiamo Rush Seguiamo Rush Oh, c'è pure Vest, hai visto? Questa Questa è una carta di officina Dov'è? Perché questo è tornato indietro? Dobbiamo uccidere a questo? O qua? Però v'è stato andato avanti V'è stato andato avanti V'è stato andato avanti V'è stato troppo forte Vai Questi sono gli scudi Andiamo a fare prima questi qua con gli archi Naturalmente Tira Oh, fermi, 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 fermi Siamo qui Ufficiale dei cacciatori No, ho, 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 ho E mo? Filippa Ma dai Ciao, notorius Beh, bellissimo questo gioco Lo devi forzare un altro po' Lo devi forzare un altro po' Perché? Come la f***? Eavesdroppedi su noi Back in the warehouse What? E tu non pensi che sia worth mentioning? Lads, il momento di discutere questo è dopo Radovid è morto Non importa con cui si è Missione è finita Ora, vabbiamo Ragazzi, il re è andato Però potevamo vedere chi ce l'aveva addosso Sempre ce l'aveva qualche Migliaio di dollari E come si tiene le scarpe? No, perché questo è il tizio che... Delle scarpe Ehm, manco uno Temeria, Temeria Temeria Ah What now, Roach? A new guerrilla campaign Against the Black Ones? No The war just ended How's that? There's something I don't know about? I'd say so You see? Tomorrow at noon The commander of army group center Will sign a truce in Amir's name A truce Whose warden we agreed with Dijkstra So back there in Velen When the trolls nabbed you? Yes I was returning from the last round of talks Amir will keep Edeon and Lyria But in exchange for Radovid's head And the stoptikarilla He will withdraw from Temeria Which will become the Empire's vassal state Self-ruled internally With its own courts, administrative structures and army The silver lilies will bloom Near the rays of the great sun So I'd say were I a poet But I'm not So all I'll say is there was no other fucking way Diciamo vedete fregati Amir otterrà ciò che vuole Voglio tutta la verità What's that? Vakmeth, act one, scene seven Always wanted to play that Never cast as anything but a halberdino Mestudizio è troppo forte Geralt, what Tarla told you Put it out of your mind There will be no truce with Nilfgaard Redania, under my enlightened rule Will fight on until it wins And when it does It will unite all the north Including Temeria What? How? This is not what we planned agreed True Instead we insisted on One Realm's questionable sovereignty And to recover it We gave Amir virtually all the north's other kingdoms It was not a wise arrangement So, no deal You two-faced horse I will not allow this Actually, you, Roach Should be the first to understand I've no choice Why the hell would I understand? Because you two are a patriot Geralt, this doesn't concern you You may go Fare thee well on your path Or what? No Eh, non permetterò che tu li uccida Why do you kill them, Dijkstra? Oh, hard luck Then you'll die with them Ma veramente lo dobbiamo uccidere? Oh, non ci abbiamo manco una rondine Non ci siamo mai riposati Sconfidgi Ma non penso che dobbiamo uccidere pure Dijkstra No, questo è l'amico Però poi tra l'altro non combatte nemmeno Ma quella sta Uccidiamo la Fjr Mettiamolo fuoco Ah, aspetta L'abbiamo pure congelato Scongeliamolo Ragazzi, questo veramente mi dispiace Questo era, fino a ora, il personaggio più simpatico di tutto Il gioco No, uno dei personaggi più simpatici di tutto il gioco No, uno dei personaggi più simpatici di tutto il gioco Questo era vicino Molto vicino Non è nulla L'envoi, due a incontrare i Nilfgaardians tomorrow Non è vero che Dijkstra lo ha uccidato E poi mi dispiace veramente Ma aspettate, dobbiamo raccontare Lo raccontare Nel solito E poi qui mi dispiace veramente aspettate dobbiamo raccogliere un attimo sta roba dove l'abbiamo ucciso con l'altro più o meno qua dobbiamo meditare dobbiamo dobbiamo meditare dobbiamo mentale ragazzi così così deve andare ok allora qua dovremmo essere vicino alla piazza però se non ricordo male basta saltare questo e andare a sinistra però dobbiamo tornare indietro qua e poi c'è la sinistra mettiamo la mappa se no ci perdiamo infatti da questa parte andiamo dal fabbro e poi facciamo nella prossima puntata facciamo gli ultimi preparativi che mi sa che è lungo come questo questi ci chiedono di fare un sacco di cose ogni volta ok questo è un sacco di soldi 2000 dollari questi casi piccolini potremmo anche questi del 2% togliamoli ragazzi fanno solo peso 2% questo è un altro 2% 2% ok creazione ripara addio a meditare abbiamo meditato vero vediamo un secondo sì perfetto ragazzi io direi che per questa puntata ci fermiamo qui e ci vediamo domani con una nuova puntata del let's play di The Witcher 3 e faremo gli ultimi preparativi ciao